Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo. Ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare? Io vi benedica e la Santa Vergina che protegga. Laudentur, Iesus et Maria. Carissimi amici, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a Maria di Magdala. Ci stiamo incamminando verso la parte conclusiva di questo corposo ciclo di catechesi. Di fatto oggi iniziamo quello che è il terz'ultimo capitolo di quest'opera, anche se il capitolo è molto lungo. Non so se riusciremo a esaurire in una sola puntata. Siamo nel contesto degli episodi collegati con la resurrezione. La volta scorsa abbiamo visto l'episodio, noto perché è narrato ampiamente dai Vangeli, dell'apparizione di Gesù a Maria di Magdala, il no di Metangere, il commento che Gesù ha fatto in persona di questo splendido episodio. Oggi si prosegue e ci sono dei dettagli anche molto belli, molto avvincenti, che riguardano anche ciò che è successo ulteriormente. Dopo, la volta scorsa abbiamo visto Maria di Magdala essere nominata la messaggera della resurrezione, quindi la leader delle apostole e degli apostoli, che sono state le donne. Oggi riprendiamo la lettura appunto da questo contesto e vediamo il nuovo episodio che si intitola con le compagne, ha superato gli apostoli. Passo la lettura così non ci dilunghiamo troppo in introduzioni eccessivamente debordanti. È la sera dello stesso giorno, gli apostoli riuniti nel cenacolo sono dieci, perché Giuda di Carriot si è impiccato dopo il tradimento e Tommaso non è ancora tornato. Nessuno di loro ha visto il risorto, tranne Giovanni, fedele fino all'ultimo, non hanno visto neppure il crocifisso per la loro defezione. L'unico giustificato è Simone Zelote, assente sul calvario per ubbidienza, perché il maestro gli aveva lasciato l'incarico di radunare i compagni sbandati e condurli da Lanzaro. Questo è un particolare molto importante. Abbiamo già diverse volte, mi fermo subito, però, incontrato la figura affascinante, affascinante perché molto saggia, ieratica, di Simone Lozelote, l'ex fidebroso, grande amico di Lanzaro, e l'opera ci dice che lui non c'era a Calvario, a differenza di tutti gli altri, non per defezione o per paura, ma perché, e questo dall'opera risulta chiaramente, Gesù gli aveva proibito di andare a Calvario perché gli aveva dato l'incarico di radunare gli apostoli appunto sbandati per poi portarli tutti da Lanzaro. La stessa cosa era successa con Lanzaro, anche Lanzaro non c'era a Calvario per lo stesso identico motivo. Quindi questo perché capiamo anche bene il contesto per chi non conosce o non ricorda bene l'opera, questo è il contesto. Sono raccolti nel cenacolo, la sera deve essere ben tarda perché nessun rumore viene più dalla via della casa. Penso che anche quelli che erano venuti prima si siano tutti ritirati o alle proprie case o a dormire, stanchi di tante emozioni. I dieci invece, dopo aver mangiato dei pesci, di cui ancora qualcuno sussiste su un vassoio posato sulla credenza, stanno parlando sotto la luce di una sola fiammella del lampadario, la più vicina alla tavola. Sono ancora seduti alla stessa. E hanno dei discorsi spezzati, quasi dei monologhi, perché pare che ognuno, più che col compagno, parli con se stesso. E gli altri lo lasciano parlare, magari parlando a loro volta di tutt'altra cosa. Però questi discorsi slegati, che mi fanno l'impressione di raggi di una ruota sfasciata, si sente che appartengono ad un solo argomento che li accetta, anche se ho così sparsi, e che è Gesù. Non vorrei che Lazzaro avesse udito male, e meglio di lui avessero capito le donne, dice Giuda d'Alfeo. A che ora ha detto di averlo visto alla Romana? chiede Matteo. Nessuno gli risponde. Domani io vado a Cafarnao, dice Andrea. Che meraviglia! Fare sì che esca proprio in quel momento la lettica di Claudia, dice Bartolomeo. Abbiamo fatto male, Pietro, a venire via subito questa mattina. Fossimo rimasti, lo avremmo visto come la Maddalena, sospira Giovanni. Io non capisco come poter essere Emmaus in palazzo insieme. E come qui dalla madre, e dalla Maddalena, e da Giovanna insieme, dice a se stesso Giacomo di Zebedeo. Non verrà. Non ho pianto abbastanza per meritarlo. Ha ragione, io dico che per tre giorni mi fa aspettare per le mie tre negazioni. Ma come ho potuto fare quello? Come era trasfigurato Lazzaro? Vi dico, pareva lui un sole. Io penso gli sia successo come a Mosè dopo aver visto Dio. E subito, vero voi che eravate là, subito dopo aver offerto la sua vita, dice lo Zerote. Nessuno lo ascolta. Giacomo D'Alfeo si volta da Giovanni e dice, come ha detto a quelli di Emmaus? Mi pare che ci abbia scusati, non è vero? Non ha detto che tutto è avvenuto per il nostro errore di israeliti sul modo di capire il suo regno? Giovanni non ti dà nessuna retta. E volgendosi a guardare Filippo dice, all'aria, perché a Filippo non parla. A me basta di saperlo risorto. E poi che il mio amore sia sempre più forte. Visto, è andato, se vuoi guardare te, in proporzione all'amore che avemmo. La madre, Maria Maddalena, i bambini, mia madre la tua e poi Lazzaro e Marta. Quando a Marta? Io dico, quando ella è intorno al Salmo Davidico. Il Signore è il mio pastore e non mi mancherà nulla. Egli mi ha posto in luogo di abbondanti pascoli. Mi ha condotto ad acque ristoratrici. Ha richiamato a seranima mia. Ricordi come ci fece sussultare con quell'inaspettato canto e quelle parole si riconnettono a quanto ha detto ha richiamato a seranima mia? Infatti Marta sembra avere ritrovato la sua via. Prima era smarrita, lei, la forte. Forse nel richiamo le ha detto il luogo dove la vuole. E certo anzi, perché se le ha dato appuntamento deve sapere dove lei sarà. Che avrà voluto dire dicendo, sponsali compiuti? Filippo che lo ha guardato un momento e poi lo ha lasciato monologare, geme. Io non saprò che dirgli se viene. Io sono fuggito. E sento che fuggirò. Prima per paura degli uomini, ora per paura di lui. Dicono tutti, è bellissimo. Può mai essere più bello di quanto già era? Si chiede Bartolomeo. Io gli dirò, mi hai perdonato senza parola quando ero pubblicano. Perdonami anche ora col tuo silenzio. Perché non merita la mia viltà la tua parola? Dice Matteo. Longino dice che ha pensato, devo chiedergli di guarirgli o di credere? Ma ha detto il suo cuore di credere. E allora la voce ha detto, vieni a me. Ed egli ha sentito la volontà di credere e la guarigione insieme. Me lo ha proprio detto così, afferma Giuda d'Arfeo. Io sono sempre fisso al pensiero di Lanzaro. Premiato subito per la sua offerta. L'ho detto io pure. La mia vita per la tua gloria. Ma non è venuto, sospira lo zelote. Che dici, Simone? Tu che sei colto, dimmi. Che gli devo dire per fargli capire che l'uomo è chiesto perdono? E tu Giovanni, tu hai parlato molto con la madre. Aiutami. Non è pietà lasciare solo il povero Pietro. Giovanni si muove a compassione dell'avvirito compagno e dice Ma, ma io gli direi semplicemente ti amo. Nell'amore è compreso anche il desiderio del perdono e il pentimento. Però non so. Simone, che dici tu? E lo zelote. Io direi quello che era il grido dei miracoli. Gesù, pietà di me. Direi Gesù e basta. Perché è ben più del figlio di Davide. È ben quello che penso e che mi fa tremare. Oh, io nasconderò il capo. Anche stamattina avevo paura di vederlo. E poi si è entrato per primo, dice Giovanni. Ma non temere così. Sembra che tu non lo conosca. Lo rincuora, Giovanni. La stanza si illumina vivamente come per un lampo abbagliante. Gli apostoli si cerano il viso temendosi a un fulmine, ma non odono rumore e alzano il capo. Gesù è in mezzo alla stanza, verso la tavola. Apre le braccia dicendo La pace sia con voi. Nessuno risponde. Chi più pallido, chi più rosso. Lo fissano tutti con paura e soggezione. Affascinati e nello stesso tempo vogliosi quasi di fuggire. Gesù fa un passo avanti, aumentando il suo sorriso. Ma non temete così. Sono io. Perché così turbati? Non mi desideravate? Non vi avevo fatto dire che sarei venuto? Non ve l'avevo detto fin dalla sera pasquale? Nessuno osa aprire bocca. Pietro piange già e Giovanni già sorride. Mentre due cugini con gli occhi lustri e un movimento di parola senza suono sulle labbra sembrano due statue raffiguranti del desiderio. Perché nei cuori avete pensieri così in contrasto fra il dubbio e la fede, l'amore e il timore? Perché ancora volete essere carne e non spirito e con questo solo vedere, comprendere, giudicare, operare? Sotto la vampa del dolore non sia tutto arso il vecchio io e non è sorto il nuovo io di una vita nuova? Sono Gesù, il vostro Gesù, Gesù risorto, come aveva detto. Guardate, tu che le hai viste le ferite e voi che ignorate la mia tortura, perché quanto sapete è ben diverso dalla conoscenza esatta che ne ha Giovanni. Vieni tu per il primo. Sei già tutto mondo. Tanto mondo che mi puoi toccare senza tema. L'amore, l'ubbidienza, la fedeltà, già ti avevano fatto mondo. Il mio sangue di cui fosti tutto rodi, ridò, quando mi deponesti dal pantibolo, ti ha finito di purificare. Guarda, sono vere mani e vere ferite. Posa la mano sul capo di Giovanni che ha osato andargli vicino. Senti? È calda e pesante. Gli alita è in volto e questo è il respiro. Oh mio signore! Giovanni mormora piano, così. Sì, il vostro signore. Giovanni, non piangere di timore e di desiderio. Vieni a me. Sono sempre quello che ti amo. Sediamo come sempre alla tavola. Avete nulla più da mangiare? Datemelo dunque. Andrea e Matteo, commosse da sonnamboli, prendono dalle credenze il pane e i pesci su un vassoio con un favo appena sbocconcellato in un angolo. Gesù offre il cibo e mangia e dà ad ognuno un poco di quanto mangia e li guarda. Tanto buono, ma tanto maestoso, che essi ne sono paralizzati. Faccio una piccola pausa, poi magari facciamo un commento complessivo perché il bello deve ancora venire. Vediamo come questo racconto ricalca perfettamente i Vangeli. Quello di San Giovanni stesso che narra l'apparizione la sera di Pasqua. Porte chiuse, che pare improvvisamente nella stanza. E poi la notazione di Luca, che dinanzi agli apostoli che erano stupidi. Guardate, non sono un fantasma, toccatemi. Un fantasma non ha mani e piedi come ho. Avete qualcosa da mangiare e gli danno da mangiare. Quindi, vedete come Gesù sta dando tutte quante le dimostrazioni. Immaginiamo anche l'ambiente, che Maria Valtorta lo scrive molto bene. Questi erano totalmente sterrefatti. Perché Gesù sta facendo vedere, sono proprio io. Carne e ossa. Carne su scheletro. Non ci credete? Mangio. Questo è il respiro. Guardate le mani, guardate i piedi, eccetera. Quindi, adesso Giacomo, il fratello di Giovanni, quindi Giacomo di Zebedeo, se vedete che Gesù li stava scrutando, li stava tissando, gli dice perché ci guardi così? E Gesù risponde, perché voglio conoscervi. Ma non ci conosci ancora? E ribatte uno dei diesi. Come voi non conoscete me. Se mi conosceste, sapreste chi sono. E trovereste le parole per dirmi il vostro tormento. Voi tacete. Come di fronte ad un estraneo potente di cui temete. Poco fa parlavate. Sono quasi quattro giorni che parlate con voi stessi dicendo Gli dirò questo, dicendo allo Spirito mio Torna, Signore, che io ti possa dire questo. Ora sono venuto e voi tacete? Tanto mutato sono che non vi paio più io? O tanto mutati siete da non amarmi più? Giovanni, seduto presso il suo Gesù, all'atto abituale di posargli la testa sul petto mentre murmura, io ti amo, mio Dio. Ma si irrigidisce vietandosi questo abbandono per rispetto allo sfolgorante figlio di Dio. Perché Gesù pare emanare a una luce pur essendo di una carne pari alla nostra. Ma Gesù se lo attira sul cuore e allora Giovanni avrà la dica al suo pianto beato ed è il segnale a tutti di farlo. Pietro, due posti dopo Giovanni, scivola fra la tavola e il sedile e piange gridando perdono, perdono. Levami da questo inferno in cui sono da tante ore. Dimmi che hai visto il mio errore per quello che fu. Non dello spirito, ma della carne che mi ha soverchiato il cuore. Dimmelo che hai visto il mio pentimento. esso durerà fino alla morte. Ma tu, ma tu dimmi che come Gesù non ti devo temere e io, e io, io cercherò di fare così bene da farmi perdonare anche da Dio e morire avendo solo un gran purgatorio da fare. Vieni qui Simone di Giona, dice Gesù. ho paura. Vieni qui. Non essere oltrevile. Non lo merito di venireti a costo. Vieni qui, continua Gesù, che ti ha detto la madre se non lo guardi su questo sudario non avrai il cuore di guardarlo mai più. O uomo stolto, quel volto non ti ha detto col suo sguardo doloroso che ti capivo e ti perdonavo. Eppure l'ho dato quell'ino per conforto, per guida, per assoluzione, per benedizione. Ma che vi ha fatto Satana per accecarvi tanto? Ora io ti dico, se non mi guardi ora che sulla mia gloria ho ancora steso un velo per adeguarmi alla vostra debolezza non potrai mai più venire senza paura al tuo Signore. E che ti avverrà allora? Per presunzione peccasti. Vuoi ora tornare a peccare per ostinazione? Vieni, ti dico. Pietro si trascina sui ginocchi fra il tavolo e i sedili con le mani sul volto piangente. Lo ferma Gesù quando è ai suoi piedi mettendogli la mano sul capo. Pietro con un pianto ancora più forte prende quella mano e la bacia fra un vero singhiozzare senza freno. Non sa che dire. perdono, perdono. Gesù si libera dalla sua stretta facendo leva della sua mano sotto il mento dell'Apostolo lo obbliga ad alzare il capo e lo fissa negli occhi arrossati bruciati, straziati dal pentimento con i suoi fuggiti occhi sereni. Paregli voglia tripellare l'anima. Poi dice andiamo levami l'obrobrio di Giuda baciami dove egli baciò. lava col tuo bacio il segno del tradimento. Pietro alza il capo mentre Gesù si china ancora di più e sfiora la guancia poi china il capo sulle ginocchia di Gesù e sta così come un vecchio bambino che ha fatto del male ma che è perdonato. Gli altri ora che vedono la bontà del loro Gesù ritrovano un po' di ardire e si accostano come possono. Vengono prima i cugini vorrebbero dire tanto e non riescono a dire nulla. Gesù li carezza e rincuore col suo sorriso. Viene Matteo con Andrea Matteo dicendo come a Cafarnao e Andrea io io ti amo io. Viene Bartolomeo gemendo non sapiente fui ma stolto questo è sapiente e accenna allo zelote al quale Gesù sorride già. Giacomo di Zebedeo viene e sussura a Giovanni diglielo tu. E Gesù si volge e dice da quattro sere lo hai detto e da tanto io ti ho compatito. Filippo per ultimo viene tutto curvo ma Gesù lo forza ad alzare il capo e gli dice per predicare il Cristo occorre maggiore coraggio. Ora sono tutti intorno a Gesù si rinfrancano piano piano ritrovano quanto hanno perduto o temuto di avere per sempre perduto. Riaffiora la confidenza la tranquillità e per quanto Gesù sia tanto maestoso da tenere in rispetto nuovi sui apostoli e si trovano finalmente il coraggio di parlare. Adesso amici scusate che questa sera la lettura è abbastanza prolungata però adesso comincia per arrivare veramente il bello. Penso che questo sia una delle parti veramente più belle dell'opera. Quindi proseguo la lettura perché adesso sentiamo le lezioni degli apostoli e poi vedremo il grande grandissimo nostro Signore Gesù come li mette tutti quanti in riga. È il cugino Giacomo che sospira perché ci hai fatto questo Signore tu lo sapevi che noi non siamo nulla e che ogni cosa da Dio viene perché non ci hai dato la forza di essere al tuo fianco? Gesù lo guarda e sorride Ora tutto è avvenuto e nulla più tu devi patire ma non mi chiedere più questa obbedienza sono invecchiato ad ogni ora di un lustro e le tue sofferenze che l'amore e Satano ugualmente aumentavano nella mia immaginazione di cinque volte quel che già non fossero hanno proprio consumato ogni mia forza non me ne è rimasta altro che per continuare ad ubbidire tenendo come uno che affoga con le mani spezzate la mia forza con la volontà come fossero i denti afferranti una tavola per non perire o non chiedere più questo al tuo lebroso Gesù guarda Simone Zelote e sorride Signore tu lo sai quello che voleva il mio cuore ma poi non ho più avuto cuore come me lo avessero preso e strappato i manicolti che ti hanno preso e mi è rimasto un buco da cui fuggiva il mio pensiero antecedente perché hai permesso questo Signore attenzione alle domande che non si fanno perché non ci hai dato la forza perché hai permesso questo quello che ha parlato adesso era Andrea ora tocca a Filippo io tu dici il cuore io dico che fui uno senza più ragione come chi prende un colpo di clava sulla nuca quando a notte fatte io mi trovai a Gerico oh Dio Dio ma può un uomo venire così io credo che così è la possessione ora la capisco cos'è questa cosa tremendo Filippo sbarra ancora gli occhi a ricordare il suo soffrire è la volta di Bartolomeo ha ragione Filippo io guardavo indietro vecchio sono e non povero di sapienza e più nulla sapevo di quanto avevo saputo fino a quell'ora guardavo Lazzaro così straziato ma così sicuro e mi dicevo ma come può essere che egli sappia ancora trovare una ragione ed io nulla più dice appunto Bartolomeo io pure guardavo Lazzaro e poiché io so appena ciò che tu ci hai spiegato non pensavo al sapere ma dicevo almeno nel cuore fossi uguale invece io non avevo che dolore 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 Lazzaro era dolore e pace perché a lui tanta pace? fa volta parlato Giacomo di Zebedeo Gesù guarda attorno prima Filippo poi Bartolomeo poi Giacomo di Zebedeo sorride e tace vedete come gli fa parlare no? Giuda dice io speravo giungere a vedere ciò che certo Lazzaro vedeva per questo gli stavo sempre presso il suo viso uno specchio un poco prima del terremoto del venerdì egli era come uno che muore stridonato poi divenne di colpo maestoso nel suo dolore vi ricordate quando disse il dovere compiuto da pace noi tutti credemo fosse solo un rimprovero per noi o un'approvazione per se stesso ora penso che lo dicesse per te era un faro nelle nostre tenebre Lazzaro quanto gli hai dato signore Gesù sorride e tace vedete che anche questa frase del grande Giuda d'Alfeo vedete così come di Giacomo di Zebedeo perché a lui tanta pace quanto gli hai dato signore sembrano neanche troppo pelati dei rimproveri a Gesù eh soprattutto Lazzaro gli hai dato questa cosa a lui sì e a noi no vedete come Gesù tace 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 poi parlerà eh ora interviene di nuovo Andrea sì la vita e forse con quella gli hai dato un'anima diversa perché infine che è lui di diverso da noi non è eppure non è più un uomo è già qualcosa di più dell'uomo e per quello che era in passato avrebbe dovuto essere ancora meno di noi perfetto di spirito ma lui ci è fatto e noi signore il mio amore è stato vuoto come certe spighe solo pula un dato dice Andrea e Matteo io nulla posso chiedere perché già tanto ho avuto con la mia conversione ma sì avrei voluto avere ciò che è Belazzaro un'anima data da te perché penso anche io con Andrea anche Maddalena e Marta furono dei fari sarà la razza voi non le avete viste una era pietà e silenzio l'altra oh se siamo stati tutti in un fascio intorno alla Benedetta è perché Maria di Magda ci ha stretti con le fiamme del suo coraggioso amore sì ho detto la razza ma devo dire l'amore ci hanno superati nell'amore per questo sono stati quelli che furono dice Giovanni Gesù sorride e tace sempre adesso cominciano senza nome ad alternarsi in considerazione degli apostoli ne hanno avuto gran premio però dice uno a loro apparisti aggiunge un altro a tutti e tre aggiunge un altro ancora a Maria subito dopo tua madre dice un altro è chiaro negli apostoli un rimpianto per questa apparizione di privilegio Maria ti sa già ti sa risorto già da tante ore e noi solo ora ti possiamo vedere dice un altro ancora non più dubbi in loro in noi invece ecco solo ora sentiamo che nulla è finito perché a loro signore se ancora ci ami non ci ripuri chiede giuda dal feo sì perché alle donne specie a Maria lei è anche toccata sulla fronte e lei dice che le pare di portare un certo eterno e a noi i tuoi apostoli nulla siamo pronti? e adesso attenzione Gesù non sorride più il volto non è turbato ma cessa il suo sorriso guarda serio Pietro che ha parlato per ultimo riprendendo a dire man mano che la porra gli passa e dice attenzione che Pietro aveva detto sì perché alle donne specie a Maria le è anche toccata sulla fronte e a noi i tuoi apostoli nulla Pietro vedete come l'essere umano si è risolto ringazzullito quindi Gesù non sorride più diventa molto serio guarda molto serio specialmente Pietro che ha parlato per ultimo e dice è aperto che adesso comincia una requisitoria degna dei più grandi processi statunitensi dice Gesù avevo dodici apostoli e li amavo con tutto il mio cuore li avevo scelti come una madre li avevo scelti e come una madre ne avevo curato la crescita nella mia vita non avevo segreti per loro tutto dicevo tutto spiegavo tutto perdonavo e le umanità e le sventatezze e le caparbietà tutto e avevo dei discepoli dei ricchi e dei poveri discepoli avevo donne dal fosco passato o dalla debole costituzione ma i prediletti erano gli apostoli è venuta la mia ora uno mi ha tradito e consegnato ai carnifici tre hanno dormito mentre io sudavo sangue tutti meno due sono fuggiti per viltà uno mi ha rinnegato avendo paura nonostante avesse l'esempio dell'altro giovane e fedele e quasi non bastasse tra i dodici ho avuto un suicida disperato uno che ha dubitato tanto del mio perdono da non credere che affatica e per materna parola alla misericordia di Dio di modo che se avessi guardato la mia schiera se l'avessi guardata con occhio umano avrei dovuto dire meno Giovanni fedele per amore e Simone fedele all'obbedienza io non ho più apostoli questo avrei dovuto dire mentre soffrivo nel recinto del tempio nel pretorio per le vie e sulla croce avevo delle donne e una la più colpevole in passato è stata come Giovanni ha detto la fiamma che ha saldato le spezzate fibre dei cuori quella donna è Maria di Magdala tu mi hai rinnegato e sei fuggito e l'ha sfidato la morte per starmi vicino insultata ha scoperto il suo volto pronta a ricevere sputi e ceffoni pensando di assomigliare così di più al suo re crocifisso schernita nel fondo dei cuori per la sua tenace fede nella mia risurrezione ha saputo continuare a credere straziata ha agito desolata stamane ha detto di tutto mi spoglio ma datemi il mio maestro puoi usare ancora la domanda perché a lei allora qui bisogna chiaramente fermarsi perché siamo finalmente arrivati al giusto elogio della protagonista di questi scritti e di questo ciclo di catechesi vedete qui Gesù è fa delle belle cose perché ogni tanto la verità bisogna dirla ogni tanto bisogna dirla e lui qui la dice perché certamente esiste la misericordia sì ma esiste anche la giustizia e la verità vedete come Gesù sembra essere veramente il primo a giustamente ovvio che sia lui a abbadare bene che la misericordia non venga scambiata per debolezza o per strumento per mezzo del quale si avalla qualunque tipo di comportamento fuori delle righe diciamo così a piedi lui dice sei tipo giovanotto tu hai rinnegato e sei scappato questa stava al calvario e quando hanno cominciato ad insultarla gli dico date il gesto si è scoperta il viso pronta a ricevere spuglie e ceffoni tutti l'hanno presa in giro perché continuava ad avere fede e stamattina ha detto di tutto mi spoglio ma guardatemi il mio maestro a chi è apparso per primo Gesù a chi se lo meritava altro che misericordia è apparso per primo a sua madre e chi se lo meritava più direi poi a Maria di Magdala e chi se lo meritava più direi poi a Lazzaro e chi se lo meritava più di lui gli apostoli hanno fatto una brutta figura gli è apparso ma dopo dopo perché non sarebbe stato giusto non è che siccome siete gli apostoli avete una condizione di privilegio a prioni ce l'avevano voi eravate i miei prediletti ma non avete agito da tali avete fatto una pessima figura non abbiamo finito ancora quindi qui c'è l'orologio di Maria di Magdala adesso proseguo avevo dei discepoli poveri dei pastori poco li ho avvicinati eppure come seppero confessarvi per loro fedeltà sul Calvario secondo me scritti di Maria Valtorta c'erano i superstiti dei pastori che adorarono Gesù Bambino sempre rimasti fedeli ma durante anche la vita pubblica non è che hanno avuto tanta questa grande importanza o considerazione da parte di Gesù ma dove stavano lì avevo delle discepole timide come tutte le donne ebree eppure hanno saputo lasciare la casa e venire fra la Maria di un popolo che mi pestegnava per darmi quel soccorso che i miei apostoli mi avevano legato una per esempio è Miche quella che gli ha asciugato il volto con il velo quella che la tradizione ha chiamato la Veronica avevo delle pagane che ammiravano il filosofo per loro ero tale ma seppero scendere ad usi ebrei le potenti romane per dirmi nell'ora di l'abbandono di un mondo di ingrati noi li siamo amiche le donne pagane l'hanno fatto avevo il volto coperto di sputi e sangue lacrime e sudore gocciavano sulle ferite l'ordure e polvere me lo incrostavano di chi? la mano che mi deterse la tua o la tua o la tua nessuna delle vostre mani costruirla presso alla madre costruirla venivano le pecore sperze voi e se sperze erano le mie pecore come potevano darmi soccorso? tu nascondevi il volto per porre il disperso del mondo mentre il tuo maestro veniva coperto del disperso di tutto il mondo lui che era innocente c'era sempre con San Pietro avevo sete sì sappia anche questo morivo di sete non avevo più che febbre e dolore il sangue era già corso nel Gezzemani tratto dal dolore di essere tradito abbandonato rinnegato percosso sommerso dalle colpe infinite e dal rigore di Dio ed era corso nel pletorio chi mi vuole dare una stilla per le fauci di Arze? una mano di Israele? no la pietà di un pagano è stata longino la stessa mano che per decreto eterno mi aprì il petto per mostrare che il cuore aveva già una ferita mortale ed era quella che il non amore l'aviltà il tradimento che avevano fatto capite? è commovente in questa lezione la mano che per decreto eterno mi aprì il petto per mostrare che il cuore aveva già una ferita mortale il non amore l'aviltà il tradimento tutte queste cose le avute dagli apostoli Gesù il non amore tranne Giovanni e Simono Lozelote l'aviltà Pietro il tradimento è Giuda gli hanno ferito il cuore queste cose al nostro Signore moriva di sede un pagano vi ricordo ebbi sede mi desti da bere non uno che mi desse un conforto in tutto Israele o per impossibilità di farlo come la madre e le donne fedeli o per mala volontà di farlo e un pagano trovò per lo sconosciuto la pietà che il mio popolo mi aveva negato troverà in cielo il sorso a me dato io amici vi invito a non c'è molto da commentare queste sono parole da ascoltare e da lasciarsi trafiggere il cuore perché Gesù sarà così nel giorno del giudizio quindi stiamo sempre buoni e umili non ci mettiamo a fare domande che è meglio non farle o accampare pretese che è meglio decorre buoni ognuno ha il proprio posto e un consiglio che è quello che lui ha dato nel Vangelo mettiti all'ultimo posto sempre ritieni di degno di nulla e di zero nemmeno dell'aria che respiri che poi sicuramente se ti metti dopo l'ultimo posto c'è la speranza che il nostro Signore ti faccia inera leggermente più avanti forse almeno che non te lo mariti proprio l'ultimo posto sempre all'ultimo mettiamoci chiunque siamo in verità vi dico che se io ho rifiutato ogni conforto perché quando si è vittima non bisogna remperare la sorte non ho voluto respingere il pagano nella cui offerto ho sentito il miele di tutto l'amore che dai gentili mi verrà dato a compenso dell'amarezza che mi dette Israele non mi ha levato la sete ma lo sconforto sì per questo ho preso quel sorso ignorato per attirare a me colui che già verso il bene piegava sia benedetto dal Padre per la sua piedà Israele l'amarezza che mi dette Israele venne fra la sua gente ma io non l'hanno accorto ho visto qualche giorno un video qualche giorno fa un video che dai non ridire c'era un un israelita un ebreo diceva crocifisso bene che non lo crocifisso se si fosse io lo farei crocifiggere di nuovo da farsi accapponare la pelle proseguo la lettura non parlate più? perché non chiedete ancora perché ho agito così? non osate di chiederlo? io ve lo dirò tutto vi dirò dei perché di quest'ora avete visto? tu ti zitti adesso no? nessuno parla più perché la requisitoria è requisitoria ce n'è per tutti e stai zitto e te lo tieni perché è verità però non è ancora finito tutto vi dirò e adesso sentiamo che cosa altro ha da dire il nostro grandissimo Dio il Signore Gesù Cristo grandissimo chi siete voi? i miei continuatori sì lo siete nonostante il vostro smarrimento che dovete fare? convertire il mondo a Cristo è la cosa più delicata è la cosa più delicata e difficile amici miei gli sdegni i ribrezzi gli orgogli gli zelli esagerati sono tutti deleteri alla riuscita ma poiché nulla e nessuno vi avrebbe persuaso alla bontà alla condiscendenza alla carità per quelli che sono nelle tenebre è stato necessario comprendete è stato necessario che voi aveste una buona volta frantumato il vostro orgoglio di ebrei di maschi di apostoli per dare luogo solo alla vera sapienza del ministro vostro all'amitezza alla pazienza alla pietà all'amore senza ambori e senza ribrezzi voi vedete che tutti vi hanno superato nel credere e nell'agire fra quelli che voi guardavate con sprezzo o compatimento orgoglioso tutti e la peccatrice di un giorno e l'azzaro intinto di cultura profana il primo che il mio nome ha perdonato e guidato e le donne pagane e la debole moglie di Cusa Giovanna debole in vero ella tutti vi supera prima martire della mia fede e i soldati di Roma e i pastori e l'erodiano Mannaen citato negli atti degli apostoli Mannaen tra i profeti della chiesa di Antiochia personaggio stupendo ma era compagno di latte di erode un tipo oltre che il suo cortigiano e persino Gamaliele il rabbino non sussultare Giovanni credi tu che il mio spirito fosse nelle tenebre tutti e questo perché domani ricordando il vostro errore non chiudiate il cuore a chi viene alla croce ve lo dico e già so che nonostante lo dica non lo farete che quando la forza del Signore vi piegherà come fuscelli al mio volere che è quello di avere dei cristiani di tutta la terra non solo gli ebrei io ho vinto la morte ma è meno dura del vecchio ebraismo ma vi piegherò tu Pietro invece di stare piangente e avvilito tu che devi essere la pietra della mia chiesa scolpisci di queste amare verità nel cuore la mirra è usata per preservare dalla corruzione intriditi di mirra dunque e quando vorrai chiudere il cuore e la chiesa ad uno di altra fede ricordati che non Israele non Israele ma Roma mi difese e volle avere a pietà ricordati che non tu ma una peccatrice seppi stare ai piedi della croce meritò di vedermi per prima meritò di vedermi per prima meritò e per non essere degno di biasimo si imitatore del tuo Dio apri il cuore la chiesa dicendo io il povero Pietro non posso sprezzare perché se sprezzerò sarò spezzato da Dio e il mio errore tornerà a Dio ai suoi occhi guai se non ti avessi spezzato così non un pastore ma un lupo saresti divenuto Gesù si alza maestosissimo abbiamo quasi finito però ecco prima di leggere l'ultima parte vorrei fare un piccolo commento guai se non ti avessi spezzato così allora amici tutti quanti noi abbiamo una storia abbiamo una vita abbiamo un'esperienza vissuta forse il Signore ha permesso o forse si potrebbe anche dire ha voluto anche se con un paio di virgolette che noi passassimo per certe tenebre per certi errori forse grossolani cose che forse non ci perdoniamo male perché se nel nostro cuore dei nostri desideri c'era il Signore c'era volessere suoi come San Paolo dice tutto concorre al bene di coloro che amano Dio ma anzi certe esperienze dolorose noi non ci rendiamo conto sul momento ce ne renderemo conto in futuro ci hanno plasmato ci hanno forgiato ci hanno formato e anche se noi al momento non lo capiamo impediscono ci hanno impedito di divenire peggiori di fare loro i più grandi perché Dio lo sa quello che fa Dio lo sa quello che fa andiamo verso la conclusione Gesù si è alzato maestosissimo figli miei ancora vi parlerò nel tempo che fra voi resterò ma per intanto vi assolvo e perdono dopo la prova che se fu avvilente e crudele è stata anche salutare e necessaria venga in voi la pace del perdono e con essa in cuore tornate i miei amici fedeli e forti il padre mi ha mandato nel mondo io mando voi nel mondo a continuare la mia evangelizzazione misere di ogni sorta verranno a voi chiedendo sollievo siate buoni pensando la mia miseria no scusate pensando la miseria vostra quando rimaneste senza il vostro Gesù siate illuminati nelle tenebre non è lecito vedere siate mondi per dare mondezza siate amore per amare poi verrà colui che è luce purificazione e amore ma intanto per prepararvi a questo ministero io vi comunico lo spirito santo a chi rimetterete i peccati saranno rimessi a chi non li rimetterete resteranno non rimessi l'esperienza vostra vi faccia giusti per giudicare lo spirito santo vi faccia santi per santificare il sincero volere di superare il vostro mancamento vi faccia eroici per la vita che vi aspetta quanto ancora è da dire ve lo dirò quando l'assente sarà venuto Tommaso pregate per lui rimanete con la mia pace e senza orgasmo di dubbio sul mio amore Gesù scompare così come era entrato lasciando fra Giovanni e Pietro un posto vuoto scompare in un bagliore che fa chiudere gli occhi tanto è forte e quando gli occhi abbacinati si riaprano trovano solo che la pace di Gesù è rimasta fiamma che brucia e che medica e che consuma le amarezze del passato in un unico desiderio di servire così finisce questo lungo capitolo ce l'abbiamo fatta a terminarlo le roti di Maria di Magdara oggi non abbiamo visto lei all'opera abbiamo visto però Gesù dire direi parole meravigliose quelle che merita e agli apostoli quelle che meritano quello che dice agli apostoli ve lo dice a tutti coloro che hanno sbagliato il sincero volere di superare il vostro mancamento vi faccia eroici per la vita che vi aspetta abbiamo mancato abbiamo sbagliato nessun dubbio se siamo pentiti sul perdono però consapevoli di quello che il Signore si aspetta da noi eroismo per bilanciare compensare riparare i nostri mancamenti tale possa essere la vita e il cammino di ciascuno di noi ci vediamo e ci aggiorniamo alla prossima puntata ripeto andiamo verso la conclusione siamo a pagina 369 di 380 sono rimasti due brevi capitoli e poi questa avventura sulle orme di Magdala sarà terminata sperando che ci abbia lasciato tanta luce tanta grazia tanta forza nei cuori l'audentur di Jesus et Maria